Il Museo Archeologico e della Via Flaminia di Cagli si riappropria dei suoi 12 guerrieri in bronzo oggi esposti al Museo Archeologico Nazionale delle Marche. 12 bronzetti che tornano a Cagli con un'esperienza tattile in un innovativo allestimento digitale reso possibile attraverso il progetto europeo Erasmus Next Museum. Un incontro fra tradizione e innovazione attraverso installazioni digitali che saranno inaugurate nel Museo Cagliese dal 25 di novembre. Proposta culturale che è stata presentata nella sede peserese di Conf Commercio Marche Nord che da luglio gestisce il Museo Archeologico di Cagli. Una bellissima restituzione al Comune di Cagli perché come ormai sappiamo i bronzetti sono stati in maniera forse inopportuna sottratti al nostro Comune ma anche se in maniera del tutto legittima perché erano stati venduti quindi non possiamo dire che siano stati sottratti in maniera illegale. Però ecco una cittadina che si sente privata di un bene che negli anni avrebbe potuto essere un viatico sicuramente verso un ritrovo turistico, un ritrovo culturale di una città oggi si sente appunto restituita di questo lavoro artistico veramente fondamentale per la nostra cittadina. Questi 12 protagonisti del progetto sono 12 bronzetti che costituiscono la cosiddetta stipe di Coltona che ha un gruppo di bronzetti che sono stati oggetto di un dono votivo fatto nel tempo da diverse persone in una fase pre-romana, quindi siamo intorno al V secolo a.C. Sono 12 statuette artigianali che provengono da varie manifatture e rappresentano delle divinità guerriere. Con questo nuovo progetto noi potremo esplorare questi bronzetti a livello tattile e ci saranno anche dei contenuti digitali per approfondire la storia, le varie vicissitudini che hanno visto questi guerri come protagonisti, dalla loro scoperta fino all'oderno allestimento al Museo archeologico Nazionale delle Marche. Permetterà questa fruizione nella sua sede originale di questi bronzetti bellissimi all'interno di un progetto europeo che si chiama Museum Next, cioè il Museo del Futuro, un progetto europeo che è nato due anni fa, vede capofile a Fondazione Marche, l'Università Politecnica delle Marche, partner tecnologico e diversi partner europei, che proprio questo progetto ha avuto l'obiettivo di definire la figura del curatore digitale all'interno di un nuovo approccio dei nostri musei ed è stato scelto proprio un caso studio, questo caso di Cagli, in cui avevamo questa stilpe di Coltona, questi guerrieri bellissimi che si trovano al Museo Nazionale archeologico delle Marche di Ancona che non potevano essere spostati, attraverso le tecnologie abbiamo rifatto, come si può anche vedere oggi, una perfetta riproduzione di questi bronzetti e oggi sarà possibile, anzi dal 25 sarà possibile vedere e toccare questi bronzetti perché poi questo è stato fatto anche per favorire l'accessibilità dei non vedenti all'interno del museo. Si tratta di un'operazione molto interessante perché abbiamo voluto dimostrare che le tecnologie possono fare meraviglie, fuochi d'artifici, ma in realtà sono uno strumento molto utile per valorizzare i piccoli musei che non hanno a disposizione le risorse o le grandi opere che stanno nei nostri grandi musei. In questa maniera noi riportiamo il patrimonio nel territorio da dove proviene, lo chiamiamo una sorta di risarcimento del territorio.